Musica 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 Ma immagino uno Ma un altro ce l'hai Musica 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 Dai Ancora Vai Andre Buono Uno Musica Musica Salve E benvenuto a un nuovo video Musica 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 Grazie a tutti. Massimale di squat clean. Vediamo dopo tutta la tecnica e il quad for time iniziale se riusciamo a migliorarlo. Il mio massimale è 110. Non li faccio da quasi un anno. Almeno 105 mi accontento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non è entrato 110. Non riesco a muovere la gamba bene. Giornata no. Ecco perché non mi sono entrati 110. Un culo a lei. Vabbè comunque 105 fatti quasi in power mi hanno detto. Facciamo che ci vediamo domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma in che senso? Ma questa è l'esibizione per lo showdown? E' l'Italia Scott Talent. Vediamo in sincro. 3, 2, 1, via. Oh la madonna! Che sembrano maramagionchi. Come vi chiamate così vi presentiamo l'Italia Scott Talent? Centro malessere. Centro malessere. Centro malessere. Centro malessere. Ho il 20% di batteria non so quanto dura. Voletevi questo Emom? Salve e benvenuti in un nuovo video. Benvenuti in un nuovo video. Allora, è il giorno dopo. Quindi l'ultimo giorno della tripletta che vi faccio vedere la mia programmazione. Ho già fatto un primo WOD, un 12 minuti Emom. No, 12 minuti Emom. Magari ve lo metto qua in alto. Adesso inizio con il 20 minuti Amra. Da morto. Oggi sono gambe. Ragazzi, ma il sabato alle 13.25. Ma chi cazzo sa l'è? Sono noi. Ma Nico, sempre social. Go! Benvenuti in un nuovo video. Abbiamo sbagliato tutto. Abbiamo sbagliato tutto, ragazzi. Se non avete ancora visto il video del 20.4, ve lo lascio qua. Vabbè, io inizio. Là c'è il numero 3 in Italia, ma qua c'è il numero 433esimo al mondo. Harry, ma che cazzo sta dicendo? Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma di che cazzo stiamo parlando? Grazie a tutti